Esercizio, vediamo questo esercizio semplicissimo di contrazioni isometriche del quadricipite particolarmente efficace dell'isometria e particolarmente efficace gli studi ci confermano questo per ridurre il dolore, soprattutto per quanto concerne il ginocchio, per quanto riguarda l'isometria dell'atto inferiore Vediamo come si svolge questo esercizio andiamo a tirare un calcio, manteniamo il piede al martello e teniamo il quadricipite duro, duro, duro alla massima contrazione possibile, con la gamba e l'estensione in questo punto qui dobbiamo resistere quanto più tempo possibile, iniziando a partire dai 40 secondi per arrivare poi fino ai 2-3 minuti quante serie e quante ripetizioni per questo esercizio? Può essere utile iniziare con i 40 secondi per il 3-6, fino a quando poi si riesce a fare questo esercizio? Ci risulta 3-3 minuti in questo modo qui, quindi mantenendo in questo modo Ora, se avete un dolore al ginocchio sinistro potete benissimo farlo anche col destro e dobbiamo mantenere il più a lungo possibile quindi possiamo iniziare con 2-3-4 serie da 40 secondi per poi arrivare ad una sola singola serie brutale di 3-4 minuti in cui veramente vi faccia male tutto il quadricipite dopo che avete completato l'esercizio Questo è un esercizio utilissimo, utilissimo per tutte quelle sintomatologie dolorose a carico del ginocchio Dopo un mesetto in cui siete migliorati addirittura si può cambiare angolo e l'angolo si può cambiare in questo modo mantenendo la massima contrazione muscolare ad esempio non più a 180, 175, 160 e così via In questo modo qui andrete a potenziare, a rinforzare il muscolo in tutti i gradi di movimento e andrete a stimolare massimamente i sistemi analgesici a decomprimere la struttura articolare del ginocchio Esercizio semplice, non necessita di nulla se non stare seduti e comunissimo eseguire Grazie Grazie